Sono Femme Maru e siamo a te tutti idioti, faremo di nuovo il fuck time e questa volta faremo l'onda energetica di Goku che mi è stata richiesta dai due ante i due ante mi hanno chiesto di fare l'onda energetica di Goku sono degli youtuber questi due ante mi hanno chiesto di fare questa cosa fammi ci pensare, come la posso fare, la faccio con la bocca onda energetica un classico, un vera come adesso dai in questo video si me o me che non può mai mancare cosa? Luca Marulli lo salutiamo Valentina Caffarelli infine Matteo Lochi no no anche Francesco e anche Francesco Amarang ciao 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 ciao